Il tuo papà era spesso in viaggio, così mi aveva fatto questo video. Dion, come sta? Mi manca il mio mito. Dammi retta, Nicole, quel bambino è davvero speciale. Tu sei molto speciale. Sei simpatico, molto intelligente e davvero bellissimo. Amma. Pat mi ha detto che gli hai chiesto di papà. Mia madre non mi dice cosa è successo. Solo che c'è stata una tempesta. Signore, ho il suo pupazzo! Dion! Sta capitando qualcosa a Dion. Dobbiamo capire come tenerli sotto controllo. Mamma! Non puoi tenerlo sotto chiave. Il governo sorveglia le persone che hanno dei superpoteri. So diverse cose sul suo bambino. Ritengo che le tempeste siano attratte da suo figlio. Dov'è mio figlio? Dov'è mio figlio? Siamo io e te. Io e te. In Grace Anatomy, Rob Lowe era in lizza per interpretare il dottor Derek Shefford, però alla fine ha rifiutato per recitare nella serie tv Dr. Vegas. E la parte andò, come sappiamo, a Patrick Dempsey. L'attore ha detto di essersi pentito amaramente. Qual è il vostro personaggio preferito? Fatemi sapere qui sotto nei commenti e io vi ricordo, come sempre, che potete seguirci anche su TikTok. Trovate il link in info box e io vi aspetto al prossimo video. Ciao da Valeria.